sono paolo gramuglia vengo da palermo sicilia mettiamo caldo ma il nostro mare esercito a palermo città zona centro mi occupo solo ed esclusivamente di protesi mobile particolare protesi totale su questo evento del cross meeting primo evento dopo il lockdown ho parlato presentato qualcosa che mi sembra molto importante nonché l'analisi progettuale di in protesi totale cioè quelle manovre quello studio che andiamo a fare prima di eseguire il nostro la nostra posizione il nostro posizionamento delle unità masticatorie consiglio ai giovani di avvicinarsi ad IOP o meglio entrare in IOP e usufruire del team che costituisce l'IOP di tutti i soci attivi a disposizione per sicuramente crescere e crescere in maniera esponenziale da questa sperendita location vi saluto e vi dico a presto spero di rivederci al prossimo evento a IOP